buongiorno facciamo il punto sul mercato della juventus in un video appunto d'opinione più che altro da parte mia è ovvio allora si parla del mercato juve e di un giunto di scatenato che è su più tavoli a imbastire trattative Douglas Lewis, Greenwood, Cockmaners, Callafiori, Di Lorenzo, Di Gregorio sono solo alcuni dei nomi poi ogni tanto sbocca fuori Sancho che sarebbe un grande acquisto secondo me perché Sancho secondo me è uno dei giocatori più forti che ci sono in circolazione insomma tanti nomi e allora cosa succede succede che molti tifosi di altre squadre che non amano ovviamente la juventus non perdono occasione per gettare fango e dire cazzate proprio lo dico in maniera molto schietta per esempio dove trova i soldi la juventus è miracolo incominciano a fare le solite plus valenze così poi bisognerà indagare intanto per cominciare speriamo che cominciano a indagare tutte le altre squadre finito il primo giro poi magari lo incominceranno con noi ma noi abbiamo già dato ci abbiamo già pagato magari che indagassero anche sulle plus valenze delle altre squadre visto che le plus valenze come minimo si fanno in due no come l'amore si fa in due la guerra si fa in due l'amicizia si fa in due non è che uno fa le cose da solo no ok non si fanno le pugnette a torino per capirci per intenderci bene come fa la juve a fare un mercato così faraonico così come viene definito innanzitutto c'è una cosa che va detta se voi prendete un giocatore che costa 20 milioni oppure costa 40 milioni oppure costa 60 milioni dovete pensare che indipendentemente da come viene gestita la trattativa ci sono sempre pagamenti direzionati in tre tranche quindi esercizio 2024 2025 2026 quindi va a pesare a bilancio ok in realtà soltanto un terzo del costo reale del cartellino più ovviamente invece l'ingaggio che viene a pesare subito sul sul bilancio ma questo è una cosa secondaria la cosa più importante come fa giunto di essere così scatenato sul mercato è molto semplice la juventus ha una vera e propria miniera d'oro nei giocatori che sono sbuccati fuori dalla nest gen che hanno giocato in varie squadre ne dico qualcuno a usi ma renacea caio josh che l'abbiamo già venduto 7 milioni sole the winter che abbiamo appena venduto 10 milioni davanti poi abbiamo i giocatori che sono a scadenza di contratto che giuntoli gli ha fatto sapere che non ne vuole più sapere scesni che si sta cercando la squadra che è un giocatore che verrà utilizzato per girare il in junior mckenny la juventus la juventus non so se ve ne siete accorti non ha ancora comprato nessuno sta imbastendo trattative ma ne sta vendendo tanti ne sta cedendo tanti perché come ho appena detto sia the winter che in caiosol sono già andati scesi si sta cercando la squadra perché sa che non giocherà più titolare addirittura la juve gli lasciarebbe libero il cartellino della serie non vogliamo niente non ti paghiamo lo stipendio risparmiando 13 milioni e risparmiando 13 milioni con cesni 7 milioni quasi 10 milioni con sandro risparmiando anche sull'eventuale rinnovo di rio di bio perché se la bio non vuole stare alla juve noi non piangiamo perché se noi al centro campo dovessimo avere fagioli coppmanners e douglas luiz scusate la bio può anche andarsene a giocare dove vuole anche al milan per quanto mi riguarda perché lo ricordo gli sbadati rabbio in cinque anni di juventus ha fatto una stagione e mezza decente tre e mezzo da uschia schifo proprio da inguardabile quindi voglio dire quale quale meriti e quale riconoscenza dobbiamo avere nei suoi confronti giuntoli che secondo me è veramente un grande direttore sportivo perché ha le stimmate di marotte ha le stimmate di moggi nel senso che non guarda in faccia nessuno guarda i conti e la qualità in campo i conti e la qualità in campo se grazie ai conti ovvero le cessioni di giocatori tu un giocatore come coppmanners anziché 60 milioni doveva pagare 30 o 25 è ovvio che fai un grande affare se un giocatore come douglas luiz che ha valutato 60 milioni circa lo paghi in realtà 20 perché gli dai mckennie e gli dai healing junior che sono ben contenti di andare a giocare alla stone villa che farà la champions league significa che la juventus si sa muovere ora se le altre squadre hanno un neofita per esempio il milan come ibraimovic che quale titolo di merito ha per essere un dirigente sportivo del milan cosa ha dimostrato fino adesso hanno licenziato maldini che aveva lavorato bene questo qui è uno che ha molto ego molta autostima di se stesso ma deve tutto dimostrare onestamente l'ingaggio di fonseca a me non sembra una roba che fa spavento agli interisti ai napoletani e gli juventini che secondo me saranno le rivali del milan sempre che il minan sia il noto scudetto e onestamente zizghe che è forte tutto quello che volete ma se tiago motta non lo vuole non ha imposto l'acquisto di zizghe alla juve significa che non ci vede l'estimate del goleador ottimo giocatore splendido giocatore ma la juventus devono fare gol perché quest'anno la juventus ha avuto l'ottavo bar nono attacco della serie a e quindi se vuoi che vlaovic venga servito ci vogliono appunto quelle ali che mettono il pallone in mezzo e quei centrocampisti che hanno capacità di inserirsi e di fare gol perché signori noi quest'anno abbiamo avuto zero praticamente gol dei centrocampisti un gol di culo locatelli zero di mckenny zero di costice mi pare tre o quattro di robiot cioè ma di cosa stiamo parlando venivamo da vidal che aveva vinto la classifica canoniera della serie a della juve ricordate era lui che era la protagoniera della juve quando abbiamo avuto pogba che faceva gol marchigio che faceva gol pierlo che faceva gol che dire che faceva gol pianis che faceva gol dove sono finiti sti giocatori non li abbiamo più avuti e di fatti la juve è crollata perché non è soltanto il bel gioco il gioco che ti fa vincere le partite i campionati ma è anche il fatto che i centrocampisti segnino perché l'inter vola mi chitaria segna salanoviu segna barella segna oltre essere forti e giocare molto bene hanno preso zelinski che ha il fiuto del gol e gioca bene hanno preso hanno preso taremi che è una seconda punta che fa gol insomma bisogna sapere fare il mercato ma notte lo sa fare moggi lo sapeva fare e secondo me giunto li lo sa fare paratici no cherubini no arriva bene no tutto qua molto semplice se tu prendi un portaborse e lo promuovi direttore sportivo della juventus che è l'errore più grande che ha commesso agnelli nel suo mandato cioè sostituire marotta con degli incapaci prima paratici e poi cherubini i risultati sono sotto gli occhi di tutti la juventus è stata imbarazzante inguardabile e ne ha pagato le conseguenze anche allegri perché se ad allegri gli dai un centrocampo di qualità facciamo un esempio facciamo uno slide indoors diamo il centrocampo della juventus all'inter e diamo il centrocampo dell'inter alla juve secondo me anche allegri vinceva lo scudetto gioco brutto penoso avrebbero magari fatto meno gol ma la qualità dei giocatori e la capacità di inserirsi negli spazi non gliela insegna certo l'allenatore è allegri è una cosa che hanno nel dna per cui se la juventus farà un ottimo mercato senza parlare di faraonico di stratosferico di oceanico usare delle iperbole no o dei superlativi assoluti è tutto è dovuto al fatto che ci sono i bar necea pensate sole sole a stiamo ricevendo offerte dai 30 ai 40 milioni persone bar necea offerte dai 10 ai 15 milioni caio giorgia abbiamo venduto a 7 di winter abbiamo venduto a 10 mckenny e healing fruttano quasi 35 milioni per la contropartita di douglas luiz capite poi abbiamo scesni che ci sgrava lo stipendio abbiamo sandro che ci ha sgravato lo stipendio chiesa come minimo prendiamo 30 milioni non un centesimo di meno e ti paghi di lorenzo più prendi a casa anche dei soldi se vuoi prendere di lorenzo cioè mercato della juventus il mercato della juventus è gestito con capacità e con intelligenza da giuntoli giuntoli non è andato da el can a dire dammi 100 milioni per il mercato ne ha 45 messi da parte accantonati dopo l'aumento di capitale di 200 per il mercato ea questi 45 andranno aggiunti gli sgravi dei contratti che non ci sono più di giocatori che abbiamo pensionato ho mandato via e tutti i giovani che noi vendiamo per fare scambi o entrate di denaro quindi la juventus a una miniera d'oro ma se gli altri tifosi o i tifosi dell'altra squadra o certi juventini ottusi non lo vedano è un problema loro io che ci posso fare grande giuntoli grande acquisto finalmente è finita l'epoca degli sfigati alla juventus